Secondo me in realtà Don Milani era un mistico contemplativo, e cioè che era mosso da quell'amore particolare che hanno i contemplativi, di cogliere immediatamente e emozionalmente la realtà dell'altro. Sacerdote e pedagogo fuori dalle norme del suo tempo, Don Lorenzo Milani viene ricordato oggi come personaggio carismatico e ribelle, che trasformò l'esilio di Barbiana in una grande esperienza di avanguardia democratica e civile. Don Lorenzo Milani è stata una delle figure più straordinarie della cultura, ma anche della politica italiana del dopoguerra. Oserei dire che il suo apporto è stato a dir poco determinante, nel senso che dopo Don Milani la scuola non ha potuto più continuare ad essere come era in passato. Penso che il suo contributo più decisivo sia stato proprio a una interpretazione e applicazione attiva dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. La scuola può svolgere una duplice funzione rispetto all'articolo 3, secondo comma, può perpetuare la disuguaglianza, può rafforzare la disuguaglianza, può aggravarla, respingendo, stigmatizzando ed escludendo gli ultimi, i peggiori, ritenendoli carne da macello, ma può svolgere anche all'opposto una funzione emancipativa, liberatoria. A 50 anni dalla scomparsa, il Comune di Napoli celebra Don Milani con una giornata di testimonianze e di riflessioni che provano anche a trasferire nel tempo presente il pensiero di un uomo che, come pochi nell'Italia del dopoguerra, combatte le disuguaglianze sociali e i privilegi di classe. Questo suo insegnamento va al di là dell'esperienza di Barbiana, che anzi illumina l'esperienza di Barbiana, ma la precede di molto con le esperienze pastorali, con la lettera ai giudici, la lettera ai cappellani militari, e viene dopo e continua ad essere viva e vitale perché quello che Don Milani ci insegna è che bisogna saper disubbidire quando una legge è ingiusta e condanna i più fragili, i più poveri e gli oppressi ad essere tali. Oggi più che mai diventa fondamentale l'approfondimento, l'approfondimento non pesante, ma necessario nella circolarità del sapere, quindi attenzione alla superficialità di quello che possiamo leggere sui social, attenzione a non approfondire. Ecco, la sua grande lezione fu proprio questa, attraverso metodologie nuove, il coinvolgimento, gli ultimi, quella di fare una circolarità dei saperi che ha liberato tantissimo, che è una lezione costante.